Abbiamo 5 minuti di proziosissimo collegamento con il 2023 e in collegamento con noi c'è Barbara Minghetti. Barbara che futuro ci aspetta? Com'è il 2023? Il 2023 è bello, bello perché vivere è sempre bello perché l'umanità e il mondo sono luoghi positivi che si ricreano e si ricostruiscono ogni volta. Tu che sei nel 2020 invece ti direi che l'esperienza che è stata molto importante e molto difficile che ho vissuto anch'io nel 2020 ci ha insegnato delle cose che stiamo vivendo oggi. Ci ha insegnato il fatto che la tecnologia che ha avuto un ruolo molto importante per starci vicini ma lontani ai tempi dell'epidemia e che quindi ha anche un po' cambiato la modalità dell'educazione, del pensare lo spettacolo in un'altra maniera, si è affiancata in realtà alla necessità di un'umanità invece fisica, lenta, più appunto umana. Quindi questi due elementi vissuti in maniera così forte in un momento di grande difficoltà hanno in realtà determinato che oggi noi riusciamo a vivere mettendoli insieme in maniera positiva, cioè quindi tenendo valore e sempre di più assaporando l'importanza di una lentezza, di una condivisione di un mondo da proteggere, di una condivisione anche della protezione delle persone più in difficoltà, della fragilità, attraverso appunto una relazione, una relazione legata al mondo della cultura, dell'arte, del pensiero, affianco appunto a questo slancio ormai necessario e forte che è stato e che è tuttora legato all'innovazione e quindi anche il fatto che una grande distanza può essere molto ridotta attraverso uno schermo come oggi e che quindi certe forme anche di lavoro, di formazione, di educazione, di relazione tra le persone hanno avuto un cambio che ha permesso anche di lavorare sulla lentezza nell'altro modo, quindi insomma questi due mondi che sono stati molto contrapposti ci hanno insegnato adesso a vivere in questo modo, più lenti ma più tecnologici. Barbara, qual è stato il meccanismo che si è innescato? Qual è stato il momento chiave in cui effettivamente abbiamo preso questa strada? Ma è stato nel momento in cui ci siamo accorti comunque tutti, credo, che la velocità era era troppo folle, cioè io stessa ero una che dormiva quattro notti in quattro letti diversi su sette giorni, che andavo a Parigi per un'ora di incontro, andavo a macerata per parlare con una persona, cioè quindi devo dire che credo su tutti noi che lavoravamo a una velocità veloce, questo stop ci ha insegnato che si può fare anche a distanza e tante cose anche in maniera migliore. Io per esempio a quei tempi ho lavorato col mio team in maniera davvero più concentrata, anche se è stato faticoso le ore davanti al computer, questo linguaggio sempre anche per certi versi distante, però per altri versi ci ha aiutato a ragionare più in team, a ragionare più in condivisione e ad avere meno distanze, perché anche l'education all'esempio, lavoro per questo progetto che si chiama Opera domani, Opera education, il contatto con gli insegnanti era one to one e per fortuna lo è ancora, perché quella parte è fondamentale, è la parte della relazione, poi noi che ci occupiamo di spettacolo dal vivo non possiamo pensare che non avere davanti una persona davanti agli occhi, però invece la parte tecnologica ci ha permesso di dire che magari abbiamo un grande esperto che possono condividere tutti invece di avere tante piccole cose, quindi sono stati cambi davvero importanti, però appunto con la consapevolezza di ritornare alla terra, di ritornare alla relazione, di ritornare a un rispetto anche democratico, umano. Quali sono stati in particolare gli aspetti positivi che in questo momento state vivendo, di questo cambiamento? Ma l'assaporare secondo me è più, l'assaporare con più consapevolezza le cose, cioè quindi apprezzare di più il fatto che se uno viaggia, viaggia perché è di nuovo un viaggio, mentre invece prima era una cosa veloce, nel senso era una cosa senza neanche un tempo e quindi senza neanche un sedimentamento, mentre invece adesso quando si fa, si fa con un percorso, si fa con un pensiero, cioè è un po' come quando ero ragazzina io, che mi ricordo che si diceva si va a Londra, sembrava il viaggio dell'attraversamento dell'oceano, però me lo gustavo, mentre invece nel 2019 andavo a Londra, non so neanche in che posto era andata, perché andavo, tornavo, allo porti, schizzavo, cioè e peraltro anche le relazioni in questo un po' si perdevano, cioè il lavoro come dicevo prima anche di squadra, anche il lavoro con le persone dei team, poi la cultura è fatta da lavori di squadra, di condivisione, di pensiero, era talmente veloce che c'era una distrazione di fondo, una distrazione anche sul contenuto, ma anche in alcuni casi sulla modalità, quindi oggi sono di bianco vestita perché è un po' l'idea anche del bianco, della purezza e del, adesso lo voglio fare home, però è un po' più di lentezza e di consapevolezza, ecco direi che la parola giusta è lo stop, questi mesi famosi dell'epidemia che ci hanno tenuto in casa, che ci hanno fatto anche riavvicinare la famiglia, ecco anche l'argomento della famiglia, le diverse generazioni sono state molto importanti, ci hanno permesso oggi di essere più responsabili. C'è qualcosa che possiamo fare noi adesso nel 2020 per cominciare questo cambiamento? Sì, è rispettare, rispettare e ascoltare, ascoltare quello che è successo e non dimenticarselo in tre secondi perché qualche segnale anche ai tempi c'era, di volerselo dimenticare, di dire si torna alla normalità, ma qual è la normalità? Era un modo di vivere per certi versi profondamente sbagliato, quindi secondo me voi dovete, visto che siete ancora un po' indietro, davvero riflettere e ascoltare quello che è successo, non far finta che sia un passaggio veloce e non volere tornare a quello che era prima, che comunque alla fine aveva tante situazioni non risolte, tante situazioni leggere e vissute con troppa leggerezza. Grazie.